Arzignano torna a celebrare in piazza l'attività sportiva e motoria per la prima volta dopo le restrizioni dovute al covid. Lo ha fatto riportando in piazza la Festa dello Sport, una vetrina delle tante società agonistiche e non presenti sul suo territorio. Confermato la formula dei gasibo informativi che permettono la promozione diretta a giovani e alle famiglie in passeggio in centro. Un modo semplice per i cittadini per avvicinarsi e informarsi sulle diverse discipline disponibili. Arriviamo da un anno e mezzo di restrizioni nella nostra libertà di muoverci per cui c'è tanto entusiasmo, credo, anche nel ripartire muovendoci, divertendoci e quindi ripartendo con una nuova attività sportiva. Quindi invito tutte le famiglie, tutti i cittadini a partecipare. Aikido, tennis, pallavolo, rugby, tiro con l'arco sono solo alcune delle eccellenze sportive che promuovono la via degli allenamenti autunnali. Decine di società e associazioni presenti. Un modo sano per lasciarsi alle spalle il periodo cupo del lockdown. Colgo l'occasione per augurare a tutti gli sportivi un buon inizio di stagione agonistica. Grazie. 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 Grazie.